Oroscopo del giorno, giovedì 5 agosto 2021 Ariete Amore, in questa giornata d'inizio mese il mood potrebbe essere un po' nervoso. Le stelle infatti potrebbero portare tensioni e discussioni animate nelle relazioni di coppia. Nemmeno i single potranno contare su questo giorno per incontri tranquilli. Lavoro, dovrete gestire un po' di nervosismi anche per quanto riguarda l'aspetto professionale. Toro, amore, questa giornata sarà più che romantica per voi e la persona che avete al vostro fianco. Grande giovedì di amore perché impegnato sentimentalmente. Tanto equilibrio ma soprattutto tanta passione. Sarà un bel momento anche per i single. Lavoro, ancora tanti pensieri per quanto riguarda compiti e progetti di lavoro. Gemelli, amore, questo giovedì non sarà troppo incoraggiante per l'ambito sentimentale perché venere sarà dissonante. Con il partner potrebbero esserci delle discussioni e dei contrasti da affrontare. Attenzione a possibili polemiche anche nelle nuove conoscenze. Lavoro, mercurio in posizione interessante invece. Potrebbe essere un momento abbastanza ricco di novità per il lavoro. Cancro, amore. Fantastico questo giovedì di inizio agosto per le emozioni e le passioni con chi amate o con una nuova conoscenza. Per i single infatti ci saranno incontri decisamente interessanti. Molto bene chi ha un partner che potrà godersi al massimo il rapporto di coppia. Lavoro, oggi la luna potrebbe portarvi qualche colpo di fortuna. Occhi aperti alle opportunità. Leone, amore. Questa giornata di metà settimana non porterà grandi novità o passi in avanti per l'amore. Sia per le coppie che per i single dovrebbe essere un giorno tranquillo. Non ci sarà troppo da aspettarsi. Presto però le cose potrebbero andare molto bene. Lavoro, le stelle saranno pronte a favorirvi. Potrete andare avanti nelle grandi idee o progetti. Vergine. Amore, questa giornata potrebbe essere una di quelle da ricordare perché le emozioni saranno davvero speciali. Se avete un partner ci sarà passione e non sono escluse novità per voi e il partner. Romanticismo in vista per i cuori solitari. Lavoro, poche buone nuove forse ma potrete contare su tanta energia. Bilancia. Amore, in questo giovedì del mese sicuramente la luna non vi aiuterà troppo con l'uomo. Lavoro, potrebbe esserci del nervosismo e affrontare le cose in coppia non sarà semplice quindi. Attenzione alle discussioni pure se siete alle prese con una nuova conoscenza. Lavoro, un po' di agitazione potrebbe prendere il sopravvento anche sul posto di lavoro. Scorpione. Amore, questa sarà una giornata piuttosto positiva e ottimista. Per i sentimenti arriveranno delle gratificazioni e delle emozioni che vi faranno soltanto piacere. Un oroscopo che varrà sia per le relazioni che per i single. Lavoro, potrebbe esserci un recupero sul lavoro dopo un po' di preoccupazioni. Tagittario. Amore, finalmente da oggi ci potrebbe essere un miglioramento, almeno con lo stato d'animo. Questo vi permetterà di essere un po' più tranquilli. Dovrete fare ancora attenzione agli impulsi, probabilmente non vi saranno affatto d'aiuto. Lavoro. Meno stress pure sul lavoro, per questo potreste dare un po' di più. Capricorno. Amore. Oggi la luna sarà in posizione sfavorevole e dovrete controllare la sua opposizione. Per questo potreste essere un po' agitati e nervosi nelle relazioni e nei rapporti personali. Pure i cuori solitari non avranno una giornata troppo facile. Lavoro. Occhio a gestire bene le tensioni di questo giovedì di inizio mese. Acquario. Amore. Questa dovrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla per voi nati sotto questo segno. Non ci saranno grandi news per i rapporti, ma le questioni di cuore stanno iniziando ad andare per il verso giusto. Un po' di serenità. Lavoro. Attenzione a qualche piccolo rallentamento che potrebbe esserci al lavoro. Arriveranno tempi migliori. Pesci. Amore. In questa giornata la luna sarà in buona posizione e finalmente potrete sperare in qualcosa in più. L'umore sarà migliore e potrete quindi farvi avanti e credere in un recupero per i rapporti amorosi e per le nuove conoscenze dei single. Lavoro. Luna bella come detto, ma forse avreste bisogno di maggiore tempo per voi. Lavoro. 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 se il video ti è piaciuto metti mi piace registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti Grazie a tutti